Sentiamo il bisogno e il dovere di esprimere un preciso impegno per il recupero della credibilità e del ruolo della cultura come premessa fondamentale per altre più durature forme di crescita. A parlare sono i docenti universitari dell'Agrigentino impegnati nei diversi Atenei siciliani che hanno accolto favorevolmente l'invito dell'Arcivescovo Francesco Montenegro per un confronto sulle problematiche culturali e sociali che investono il territorio e per elaborare proposte finalizzate alla rinascita di questa terra che, come dice l'Arcivescovo, ha bisogno di riscatto e di cultura. E il mezzo per rendere concreto l'impegno per i docenti è quello di fornire un valido esempio nel lavoro, nella ricerca e nell'azione formativa e avviare proposte che siano espressioni di un servizio aperto al territorio e che definiscano percorsi culturali e sociali a diversi livelli. Per i docenti è delineata una preoccupante situazione culturale, economica e sociale a fronte di una grande umanità e intelligenza di tante donne e tanti uomini di cultura e di politica e di un pregevolissimo patrimonio naturale e storico-artistico. Motivi per cui gli stessi cattedratici sostengono che per avviare un reale processo di sviluppo occorra una rifondazione culturale che investa tutti i settori del vivere civile, tutti i contesti sociali e soprattutto quelli giovanili e di chi opera per la gestione, la formazione e la trasformazione del territorio. Per, scrivono in una nota, affermare e rafforzare un'idea di speranza che questa terra, cioè, è riscattabile ed ha una prospettiva di futuro.